Aspetta Fabio, vai a vedere lì. Dai, stendetela bene. Ecco, qua. Mauri, che fate? È facile, ma non è difficile. Bisogna imparare. Come la stendono la roba, Mauri? La stendono appunto qui. Eh, non la sanno fare, vero? Allora, fagli il giurissimo, Mauro. Fagli fare il giurissimo, fagli la stendono la stessa. Mauri, spiega il metodo per stendere bene il bucato. Tu l'hai stessa bene? Eh? Come l'ha stessa, Fabio? Tu puoi Giggio. Mauri, come l'ha stessa? Guarda, è pure la stessa. Sì? Ma, Tizia, sei guardata Maurici che la stendono bene? Guarda, tu guarda come l'hai stessa quella. Correggia Tiziano. Non cominciamo? Correggia Tiziano. Eh, come le stesse? Guarda come l'hai stessa. Guarda bene, Tizia. Aspetta che l'hai stessa. Guarda bene, Tizia. Aspetta che l'hai stessa. Tizia. Vai di come l'altro. Come procede? Mauri, come procede? Mauri è bravissimo. Sì, sì. C'era uno. Fabio? No, c'è questo qua di Marco. Tu hai già stessa? Questo lì. Anche questo. Ah, lui c'è la casa ragione. Sei in ferie. Cioè... Quelle lunghe. C'è anche questo. Tu Marco stessa? Sì, sì, io sì. Sì, sì. Non ti dico. Non ho schermiato questo qua, so fare delle buttande. Secondo me, tu dovresti fare questo. Tipo, Fred, mi metti con la sfida a porco. Fred, mi metti con la sfida a porco. Fred, mi metti con la sfida a porco. I want to be... Eh, quel video era così. I want to... No. Il video era così. E' una delle pulizie. Eh. No? Frank. Dai. È così, eh. No, però c'è la guanellina in pelle. No, c'è la guanellina in pelle. E qua c'è. I want to be... Con i bassi. I want to be... Tizzi, tu non ridala perché ce l'ho anche aperta, eh? Eh.